L'idea che il presidente Frattura sia un addetto ai disastri, già ampiamente diffusa tra i molisani, comincia adesso a circolare anche tra i suoi amici e tra questi, proprio quelli del cerchio magico di cui si circonda. Quando lo incrociano lungo i corridoi della regione, ormai tutti hanno preso a fare scongiuri e scaramanzie di vario tipo. A pensare che Frattura vada disseminando il terreno di mine deve essere ad esempio in queste ore l'avvocato Carmela Lalli, consulente di Frattura per le attività giuridiche sulla cui testa sta per abbattersi non la classica tegola ma un intero tetto. Rischia conti alla mano di dover rifondere la modesta cifra di 92.000 euro equivalenti al compenso percepito per l'anno 2015 in forza della delibera numero 68 adottata dalla giunta regionale il 10 febbraio di quello stesso anno. Con tale atto amministrativo la regione conferiva all'avvocato Lalli l'incarico di consigliere del presidente della regione per le attività giuridiche sulla opportunità di tale iniziativa lasciamo ai molisani il giudizio avendo l'amministrazione al proprio interno figure che senza nulla togliere alla professionalità dell'avvocato Lalli lautamente retribuita ma che qui non è in discussione potrebbero ampiamente consigliare Frattura nei diversi campi dello scibile umano. Per restare sul piano delle attività giuridiche Frattura dispone ad esempio proprio in giunta di un legale l'avvocato Vittorino Facciolla che non è certo uno sprovveduto sceso dalla montagna con la piena. Ma torniamo ai pasticci di Frattura perché questa volta a rilevarli non è l'informazione astiosa come la chiama quel Mozart del rancore che il consigliere ciocca ma i giudici seriosi azzimati della Corte dei Conti. La sezione di controllo per il Molise nella donanza dell'11 novembre 2015 ha preso in esame l'incarico conferito all'avvocato Lalli rilevando irregolarità graviettali da poter ipotizzare il danno erariale. Per questo gli atti della sezione di controllo sono stati trasferiti alla Procura presso la Corte dei Conti. In particolare quello che contestano i giudici contabili è la mancata pubblicità da parte della Regione dell'incarico conferito all'avvocato Lalli secondo quanto dispone l'articolo 15 del decreto legislativo 33 2013 meglio conosciuto come decreto trasparenza. In pratica il sospetto della Corte dei Conti è che l'incarico alla Lalli sia stato imboscato nel mare magnum degli atti regionali e non nella specifica obbligatoria sezione dedicata all'amministrazione trasparente. L'atto così concluso sarebbe secondo la norma inefficace e farebbe scattare la restituzione dei compensi percepiti. Le conseguenze a questo punto potrebbero essere nefaste non solo per la Lalli ma anche per il dirigente che ha omesso tale pubblicazione tenuto a pagare una somma equivalente a quella corrisposta. Insomma dopo la fiducia persa dai molisani frattura è in caduta libera anche presso il cerchio magico. Di questo passo rischia che gli rimanga un solo amico il ficus bonsai ereditato insieme agli arredi regionali e forse di questo passo anche il ficus incontrandolo la mattina si attarderà a fare inequivocabili segni di scongiuro e scaramanzia.